Questa è una convenzione che il Confcommercio ha fatto con la Camera di Commercio, una convenzione proprio sulle start-up. Si tratta di un'iniziativa rivolta ai giovani imprenditori che cercano di aprire un'azienda, magari innovando, però hanno, come è normale che sia, diversi problemi, sia da punto di vista burocratico, ma piuttosto anche quella magari di organizzarsi un business plan. Il focus sarà sull'innovazione, innovazione online, quindi nel settore del commercio e della somministrazione, lo sviluppo degli strumenti online, pensiamo al commercio elettronico, alla promozione online, che hanno notevoli potenzialità per lo sviluppo del business. La funzione dello sportello è proprio quella, riuscire a individuare tutte le problematiche che un neoimprenditore potrebbe trovare all'interno della propria azienda. Non è un problema di start-up, ma far sì che queste start-up riescano poi a continuare nel tempo.